Lei ha osato interferire con le forze primordiali della natura, signor Bill! E io non lo ammetto! È chiaro? Lei crede di aver solo fermato una trattativa di affari, ma invece non è così! Gli arabi hanno portato miliardi di dollari fuori da questo paese e ora ce li devono riportare! È il flusso e riflusso, l'alto e bassa marea e il giusto equilibrio ecologico! Lei è un vecchio che pensa in termini di nazioni e di popoli! Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest! Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi! Uno, vasto e immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale, dominio dei dollari! E lei ha interferito con le primordiali forze della natura!